Giusefina Obossa MVP di questa meravigliosa partita che bella vittoria tre punti che riconciliano con il gioco ma soprattutto con il morale e la classifica si decisamente una vittoria inaspettata perché abbiamo giocato un tanto di partite però purtroppo non sono andate bene ma posso dire che sono contenta di oggi che abbiamo espresso il nostro gioco finalmente e che i risultati sono arrivati e posso dire che è così che voglio vedere la squadra sempre perché così siamo belle da vedere ed è un piacere stare in campo.